Se ne è parlato tempo fa, un anno e mezzo fa, c'è una possibile sede per un CIE, Centro di Identificazione ed Espulsione, ma non c'entra niente con la situazione. Non ci sono altre sedi, non verranno aperte altre sedi o altre tendopoli. La fase acuta, diciamo così, dell'emergenza che ci ha portato a realizzare questi siti e si è conclusa. L'accordo con la Tunisia sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati dopo il 5 di aprile, stiamo potenziando il sistema di controllo delle coste, appogliamento delle coste, e quindi questa di Montichiari era un'ipotesi che era uscita un anno e mezzo fa, ma è una cosa che non c'entra niente. Grazie. Grazie.